GF VIP, l'ex di Antonella non più, è stato denunciato, caos. Il papà di Antonella Fiordelisi ha fatto di tutto per fermare l'ingresso dell'ex Gianluca Benincasa al GF VIP 7. E ci sarebbe riuscito, alla fine. Gianluca era tra gli ospiti speciali annunciati da Alfonso Signorini. Tutti ex fidanzati pronti a varcare la porta rossa. Evidentemente Benincasa era un ospite scomodo per i Fiordelisi e hanno deciso di ricorrere a ogni mezzo possibile per far sì che saltasse l'ingresso. Voci di corridoio nei giorni scorsi hanno ipotizzato una battaglia del Signor Fiordelisi contro gli autori per far sì che Gianluca non entrasse. Forse non ha raggiunto il suo scopo con le buone e ha deciso di usare altri mezzi. Il papà di Antonella Fiordelisi ha denunciato per stalking Gianluca Benincasa. A queste condizioni il suo ingresso dovrebbe essere saltato. Dejanira Marzano nelle scorse ore ha riportato che Fiordelisi avrebbe presentato un esposto nei confronti di Gianluca per stalking con divieto di avvicinamento. Quindi non possono stare nella casa insieme. Nel frattempo Antonella ieri sera mandava saluti dalla casa propria Gianluca. Benincasa stesso ha replicato con un video su Instagram. Tutte queste accuse che mi hanno fatto come stalker, chissà chi sono, chissà cosa ho fatto. Non è vero niente ovviamente. Sono rimasto proprio deluso perché mi sono trovato in una situazione bruttissima in cui la mia ragazza, la ragazza che stava con me prima di entrare al grande fratello, mi ha tradito in diretta. Il padre e la madre lo sapevano. Non ho mai stalkerizzato nessuno. Ho chat della madre e del padre che mi chiedono di andare a prendere le valigie. Tante commissioni per lei che ho fatto volentieri.